Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video. Un saluto a tutti da Max, torniamo a parlare di Grande Fratello Whip. In Extremis stavolta abbiamo in prima linea Luca Onestini perché ci sono delle frasi che non piacciono praticamente a nessuno. Grande Fratello Whip pieno di colpi di scena tra riappacificazioni di qua, tensioni di là e che sembrano ormai essere all'ordine del giorno e questa volta la luce sui riflettori si va a spostare su Antonella Fiordelisi e tutte le vicende sentimentali con Edoardo Donnamaria all'ex tronista Uomini e Donne e poi ancora il rapporto con Nikita Pelison. Luca Onestini prende in giro Nikita. I fan non gradiscono. Il pubblico italiano ha avuto modo di comprendere da mesi la forte divergenza caratteriale tra i due, motivo che probabilmente non ha permesso alla loro frequentazione di proseguire. Questa volta la situazione era quella di una festa tra vipponi della casa. Ma nel bel mezzo del divertimento, Nikita ha preferito mettersi in disparte per iniziare a scrivere qualcosa. Luca Onestini ha assisto alla scena. Ragazzi, sta scrivendo appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomando, scrivili bene perché mi stai facendo fare brutte figure, sono state le parole di scherno di Luca Onestini. Frasi che ai fan non sono per nulla piaciute alla luce del fatto che Nikita tenda a scrivere molto a causa della poca memoria. Un problema di cui lei stessa ha più volte parlato e per cui esisterebbe anche un nome, quello di Alzheimer giovanile che può colpire utenti dai 30 ai 60 anni. Sai che io non mi ricordo quasi più niente? Infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no. Non sto scherzando, non mi ricordo ancora il nome della prima nipote da parte di mio fratello, erano state le parole di Nikita Pelison confidate proprio a Luca Onestini non appena fatto ingresso nella casa del GF VIP 7. Impossibile dunque per i fan chiudere un occhio e infatti sono in molti a chiedere ad Alfonso Signorini di affrontare la questione in puntata, per portare Luca Onestini, con ogni probabilità, ad ammettere di avere sbagliato. Infatti anche nel momento in cui Nikita aveva parlato apertamente del suo problema non sono mancati messaggi di vicinanza e affetto da parte del pubblico. Ma ho capito bene. Nikita soffre di una malattia neurodegenerativa della memoria. Piango? Qualcuno lo sapeva già. Stanotte si è parlato del problema che le hanno diagnosticato sette anni fa alla memoria. Matteo sa benissimo ed è in apprensione per lei. È venuto fuori che lei ha una malattia neurodegenerativa legata alla memoria.